Nome e cognome? Alba Francesco Giuseppe Quanti anni hai? Un po' vecchietto, 32 anni quasi, però ok Come mai hai voluto partecipare a questa nuova esperienza di questo nuovo film di Suto Yolanda Reiss? Beh, semplicemente ero curioso di provare questa piccola esperienza perché mi siamo appassionati un po' l'arte e il teatro e spesso e mentieri gioco, senza vergognarmi dirlo, anche di ruolo quindi mi piace molto improvvisare e recitare secondo alcuni sono anche portato bene, poi vedremo È la tua prima volta appunto che reciti teatro, cinema o hai fatto qualche esperienza prima? Ho fatto un'esperienza breve, una piccola comparsa in una vecchia scena teatrale poi non mi sono ancora tentato più tanto per un insieme di fattori fare lavoro e progetti vari Ok, progetti futuri? Beh, quindi di chiudere un capito che è la laurea e soprattutto sto avviando anche un start-up vediamo se ci riuscirò e quindi quindi questo poi mi piace bene visitare e girare Ok, il personaggio di questa storia, descriverlo un pochino, ti rappresenta in qualcosa? Racconta Beh, semplicemente è un tipo di poche parole effettivamente è un po' diverso da quello che sono io solito perché sono un tipo molto estroverso però la nota mi affascina anche perché questo personaggio sia caratterialmente e sia perché sicuramente in passato ha avuto delle molte esperienze e ha trovato una famiglia di questo genere in una casa però rimane sempre sulle sue quindi, come vedrete, sarà anche un po' scorbutico nei modi Un saluto a chi vuoi salutare, a chi guarderà questo film Un saluto a tutti Un saluto al registro che mi ha permesso di avere questa occasione e di avere altre future collaborazioni Un bacio da Francesca